Intanto devo ringraziare Arta che ha ritirato fuori questa motonave dall'abbandono in cui era stata lasciata. Pensate che è una motonave che è acquistata negli anni 90 per praticamente 20 anni è stata totalmente inutilizzata o sottoutilizzata. Finalmente poi dopo la regione averla data d'Arta, Arta l'ha ristrutturata, è dovuta arrivare fino al Texas per rimetterla perfettamente in efficienza e oggi diventa uno dei nostri punti di forza, una delle nostre infrastrutture a sostegno delle ricerche, delle analisi per verificare la qualità delle nostre acque, la salute complessiva delle nostre coste e del mare in particolare, una struttura talmente utile che anche altre regioni vicine e confinanti, a cominciare dagli amici del Molise, hanno chiesto in convenzione di poter utilizzare per poter compiere le stesse ricerche e lo stesso tipo di attività. Intanto a San Salvo si inaugura la sede Arta e questo è un altro presidio importante nell'ottica della tutela ambientale delle acque. È un altro presidio importante, insomma c'è un lavoro complessivo di crescita delle nostre strutture dedicate alla tutela dell'ambiente, l'ambiente è un punto di forza della nostra regione, la regione dei parchi nazionali, la regione verde d'Europa, la regione che da questo punto di vista in un clima, in un momento in cui tutta l'Europa va verso la transizione ecologica, l'Abruzzo deve continuare a mostrare la strada agli altri come ha fatto oltre un secolo fa costituendo uno dei primi parchi nazionali del mondo, d'Europa e d'Italia e ancora oggi appunto la tutela dell'ambiente, della qualità dell'aria, del cibo, dei suoli, dei terreni. Arta si occupa di bonifiche, di caratterizzazioni, di analisi, di verifica anche della potabilità dell'acqua che viene immessa nei nostri acquedotti. Insomma un lavoro molto complesso e delicato, merita che da parte della regione ci siano le attenzioni giuste per fornire Arta delle risorse necessarie a poter svolgere fino in fondo un compito che è essenziale.